Ciao a tutti amici di Comip, in questo momento di grave emergenza per il coronavirus il nostro pensiero va a tutti voi, sia a coloro che vivono ancora sotto lo stesso tetto con i genitori che soffrono di un disturbo psichico, ma anche a quelli che sono distanti dai loro genitori e a distanza devono rassicurarli o stare attenti perché rispettino le norme di sicurezza. In alcuni giorni passati mi è capitato di leggere alcuni commenti in giro sul web riguardo ai familiari di persone non disubbimentali e il messaggio era voi non siete malati, è la persona malata che ha bisogno di aiuto e quindi c'era uno spostamento dal punto di vista sulla persona malata. Per chi è figlio spesso è qualcosa che ci si sente ripetere fin da quando si è adolescenti, quante volte vi sarà capitato di sentirvi dire pensa a tua madre, pensa a tuo padre. Noi abbiamo creato questa associazione per dare anche a chi è figlio un conforto e per spiegare a tutto il resto del mondo che avere dei bisogni in quanto figli non significa negare che la persona che c'è genitore ha dei bisogni e che ha un disturbo significa riconoscere che non c'è un dolore più importante dell'altro e che se non mi prendo cura anche di me stesso o di me stessa poi ne pago le conseguenze in termini di salute a mia volta. Quindi questo spazio principalmente è per i figli e questo senza stigmatizzare il genitore che ha la malattia ma per ricordare che convivere sotto lo stesso tetto con un genitore che ha un disturbo grave è molto difficile specialmente se quel disturbo non è curato adeguatamente, a volte addirittura non è curato affatto o se addirittura le cure non sono ancora in una fase di stabilizzazione quindi ci sono ancora delle ricadute, ci sono ancora dei frequenti cambi d'umore anche nell'arco della stessa giornata. Quindi potete immaginare come un momento di quarantena forzata possa incidere pesantemente sul benessere sia della persona malata ma in questo caso noi ci occupiamo dei figli dei figli, quindi bambini, adolescenti, giovani e adulti ma anche adulti che spesso anche a causa di motivi economici sono costretti a vivere con i genitori anche oltre i 30 anni quindi in questo momento di particolare difficoltà vogliamo lanciare un'iniziativa per tutti questi figli che non hanno magari possibilità economica per fare una donazione noi per tutto il mese di marzo fino al 3 aprile vogliamo lanciare questa iniziativa per esservi accanto anche fisicamente con un oggetto concreto quindi se ancora non avete il libro quando mamma o papà hanno qualcosa che non va noi se ci inviate un messaggio alla pagina di Comip o alla mail info.comip-italia.org comunicando il vostro indirizzo ve lo spediamo gratuitamente a casa a spese dell'associazione la busta faremo in modo che riporti come emittente Comip APS in modo tale da garantire anche la riservatezza di quanto contiene la busta in modo tale che se il disturbo del vostro genitore lo porta a non rispettare dei confini e quindi anche a controllare la vostra posta sulla busta non troverà scritto children or mental health parents ma Comip in modo che possiate ricevere il libro in totale sicurezza a tutti gli altri che hanno invece la possibilità di sostenerci chiediamo di farlo con una donazione ai canali che scriverò sul post che accompagna questo video perché il vostro contributo ci consentirà di spedire il libro a chi ne ha bisogno ma non ha possibilità economiche per donarlo, per fare la donazione chi volesse averlo con la donazione può richiedere il libro su buonacausa.org perché questa iniziativa? Perché tanti ci dicono mettetelo online? no, perché? Perché un libro fisico ha un valore diverso rispetto a un file digitale che è molto più freddo e poi ricevere un pacchetto a casa per noi nostalgici è qualcosa che ancora emoziona tantissimo e soprattutto lo spediremo in totale sicurezza ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dirvi in questo periodo fino al 3 aprile spediremo esclusivamente con un piego di libro ordinario non raccomandato, questo perché possiamo imbucarlo nella cassetta delle lettere quindi senza entrare in contatto col personale dell'ufficio postale quindi senza creare inutili rischi insomma per noi e per chi ci lavora quindi io vi chiedo questo sostegno a chi può farlo a tutti gli altri che hanno necessità scriveteci per avere la copia gratuitamente in questo momento siamo abbastanza approvati perché avevamo 7 eventi nel solo mese di marzo il che è un grande record perché come sapere il tema non è di quelli più facili proprio a marzo avevamo un picco di eventi di sensibilizzazione dovevamo essere la scorsa settimana a Padova e Vicenza questa settimana saremmo dovuti essere a Milano e a Chiavenna e alla fine del mese avevamo ben due eventi a Roma uno importantissimo a cui tenevamo era la seconda edizione per noi di Comip della stracittadina di Roma e del Goodies Day tutto è stato annullato ovviamente per motivi più che importanti ma sapete quanto per noi è importante poter essere sul territorio quindi andare in giro per l'Italia, portare il nostro messaggio di sensibilizzazione e attivare sui territori quella sensibilità che serve per poi creare un sostegno a tanti bambini, adolescenti ma anche adulti e giovani adulti che vivono queste situazioni di grande difficoltà quindi cerchiamo di esservi vicino in questo modo quindi spedendo il libro a chi ne ha bisogno tramite il nostro gruppo di automuto aiuto online riservato ai figli dove se avete bisogno potete parlare con altri figli sfogarvi, trovare un conforto per cui contattateci se volete iscrivervi al gruppo che è riservato, lo ricordo, esclusivamente ai figli e teniamoci in contatto con questo modo in attesa di tempi migliori io vi mando un grandissimo abbraccio e ricordatevi che anche in queste circostanze difficili la vostra salute è importante quindi se è possibile anche prendere un momento per fare una passeggiata in sicurezza e uscire un po', scaricare un po' la tensione fatelo è vero, il vostro genitore è malato ma anche voi siete importanti anche il vostro benessere è importante quindi non trascuratelo se avete bisogno di consigli, suggerimenti consultate i siti che si occupano di benessere psicologico ci sono anche moltissimi psicoterapeuti che stanno offrendo la possibilità di fare delle sedute di terapia online su Skype quindi chiedete aiuto in qualunque momento noi vi abbracciamo e vi mandiamo tutto il nostro sostegno e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci stanno sostenendo da tutta Italia ma non solo, anche dall'estero perché soltanto grazie al vostro aiuto una realtà piccola ma combattiva come Comip può continuare a esistere un abbraccio grandissimo a tutti grazie a tutti